Pronto Tre Lui è il giocatore di Brescia? Sì, lui, sì Ora noi picchiamo Nooo No, no, no Noi non picchiamo No, no, no Suo nome è... Eh, sì Eh, neanche io Sei pronto? Io ti sto filmando già adesso Faccio un gran tu Sei a 24 Tutto? No, aspetta, guarda che ho dimenticato di ordinare una cosa La Coca-Cola Guarda, riesci a metterne un'altra nel menù? Sì, fino a seconda Sì, guarda, timelo tu un secondo Che non ho le mani Ma, moita Moita Non ci credo È entrato It's Ian In the mag Wow, ordiniamo Patatine fritte, grazie Sì, anis Eh, anis Allora, benissimo Sì